L'omaggio c'è, ma come tutto il film ha dimensioni molto piccole. In una scena di Ant-Man, i produttori hanno voluto regalare una sorpresa ai fan del film Zoolander. Il film comico con Ben Stiller e Owen Wilson è ormai diventato un cult fra gli appassionati del genere, che a forza di commenti hanno fatto sì che Stiller si convincesse a girare il secondo capitolo. In una delle scene più divertenti del film, il non molto intelligente protagonista scambia un modello di biblioteca per un vero edificio, apostrofandolo un centro per formiche. Naturalmente in una pellicola come Ant-Man, dove il protagonista Paul Rudd riesce a diventare piccolo proprio come una formica, non si sono lasciati scappare il riferimento e in una scena hanno utilizzato lo stesso modello visto in Zoolander. Ai fan più accaniti della pellicola la cosa non è sfuggita e su Reddit si sono riversati vari utenti per commentare l'omaggio nascosto. Il film della Marvel, già uscito in America mentre in Italia arriverà il 12 agosto, ha voluto quindi omaggiare una delle commedie più divertenti degli ultimi anni e chissà che in Zoolander 2 e Ben Stiller non citi l'uomo formica in cambio.